Gaitano, stiamo per raccontare una storia dell'arca che fa acqua da tutte le parti, lo diciamo da tanto tempo, perché io veramente a volte ho difficoltà a raccontare queste cose qui. Gaitano, chiedete due invalidi di questo palazzo in via Veneto 6, chiedono il Montascale, il Montascale dopo una lunghissima attesa arriva ma nel frattempo chi l'aveva chiesto muore, quindi non ha potuto godere del Montascale. E' stato collaudato? Sono venuti gli ingegneri dell'arca e hanno dato l'ok che la scala doveva andare in funzione. Ha mai funzionato? Non ha mai funzionato. E nel frattempo altri due sono diventati invalidi? Sono diventati invalidi. Con il Montascale montato? Montato, che non funzionava, sono deceduti anche tutti. Quindi siamo già a quattro invalidi deceduti con il Montascale montato? Con il Montascale montato. Ora c'è il problema dei tuoi suoceri? Mio suocere e mia suocere invalidi, non per dire, c'è al cento per cento per cento, con i documenti se vogliono, dichiarato. La signora del piano terra qui fa la dialisi, è un'altra invalida, infatti fuori c'è il parcheggio degli invalidi della signora. E tu ti sei rivolto all'arca, che cosa ti hanno detto? L'arca mi ha riferito che noi dobbiamo andarci a trovare un assistente per la scala, ma alla fine noi non centriamo niente su tutto questo, diciamo, che loro devono trovarci la persona giusta, mandarci e farla funzionare, perché loro ci hanno detto che questa scala ha anche un costo di 60.000 euro. Quindi pensate a tutti quei palazzi che invece hanno tanti invalidi vivi e l'hanno chiesto anche 5-6 anni fa e non l'hanno ancora avuta, voi invece ce l'avete ed è ferma. Non è mai entrata in funzione? Non è mai entrata in funzione, mai, neanche fatto un secondo, un giro sopra, pure per provare. Cioè se è avuto qualcuno, andiamo sopra e scendiamo. Infatti poi sono venuti, come ti ho detto, sono venuti gli ingegneri per dare l'ok alla scala e gli ho fatto anche una precisione che hanno montato questa scala con della canarina che ci sono dei figli elettrici. Ci sono fili elettrici, questa è una corrente da 2,20, se mette un bambino le mani significa che rimane qua folgorato. E quindi facciamo un appello al Presidente Tericolo che mandi qualcuno a capire come risolvere questo problema. È giusto che c'è? Sì, infatti. E come fai con i tuoi suoceri? Gli insaliamo a braccetto con la sedia. Cioè con la rimetti sulla sedia a braccio di porti giù. Il mio suocero è una persona più leggera e la suocera è un po' più pesante. E quindi con la rimonta a scale da 60.000 euro montato, ancora con la sedia a braccio perché non funziona. Non funziona, infatti. Io ti capisco. La politica diciamo. Ti capisco, siamo solidari con te. Se qualche volta hai bisogno, mi chiami e ti do una mano. Infatti perché ci siamo rivolti a te, Antonio? No, no, io dico, però vengo a prendere la sedia, tu a suocere con la sedia, vengo anch'io, ti do una mano. Magari, magari. O chiamiamo il Presidente Tericolo a darti una mano, no? Quello sì. Vieni lui a darci una mano. Tanto lui è forzuto, ce la fa. Ok, non lo conosco, lo vorrei conoscere. Per ora e solo per ora è quasi tutto con la speranza che l'Arca, prima o poi, smetta di fare acqua da tutte le parti. Per ora è un po' più grande. Per ora è un po' più grande. Per ora è un po' più grande.